Bellissima stilo, appena lavata, come vedete, 140.000 km originali, impianto a gas, doppio aria condizionata, perfetta da collezionismo, non paga il bollo, impianto a gas 1.6, tutta documentata, distribuzione rifatta, 140.000 km originali, ha il migliore offerente o scambio con SUV, pick up o qualsiasi altra proposta, anche un camper, perché ho famiglia e la macchina l'ho presa da collezione.